Il genocidio degli indiani d'America è una delle pagine più buie della storia moderna. Per secoli, le popolazioni indigene del continente americano sono state vittime di violenza, oppressione e sterminio da parte dei colonizzatori europei e dei loro discendenti. Le cause dello sterminio degli indiani d'America sono molteplici e complesse. Innanzitutto, vi fu la diffusione di malattie europee, a cui le popolazioni indigene, non avendo sviluppato alcuna immunità, erano particolarmente vulnerabili. Nel corso del XVI secolo, malattie come il vaiolo, il morbillo e la peste decimarono la popolazione indigena, riducendola di circa il 90%. In secondo luogo, i colonizzatori europei erano intenzionati a conquistare e sfruttare le terre dei nativi americani. Per raggiungere questo obiettivo, non esitarono a ricorrere alla violenza e alla guerra. Nel corso dei secoli, si verificarono numerosi massacri di nativi americani, come quello di Sand Creek nel 1864, in cui le truppe statunitensi uccisero indiscriminatamente circa 200 uomini, donne e bambini sceienne. Infine, i colonizzatori europei cercarono di imporre la propria cultura e religione alle popolazioni indigene. I nativi americani furono costretti a convertirsi al cristianesimo e ad abbandonare le proprie tradizioni. Molti di loro furono anche costretti a vivere in riserve, dove erano soggetti a rigide restrizioni. Le conseguenze del genocidio degli indiani d'America sono ancora visibili oggi. Le popolazioni indigene degli Stati Uniti e del Canada sono ancora oggi tra le più povere e meno istruite del paese. Sono inoltre più vulnerabili alla criminalità e all'abuso di sostanze. Solo negli ultimi decenni si è iniziato a riconoscere il genocidio degli indiani d'America come un evento storico reale e drammatico. Nel 2009, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rilasciato una dichiarazione in cui ha riconosciuto il ruolo del governo americano nello sterminio dei nativi americani. Tuttavia, molto resta ancora da fare per affrontare le conseguenze di questo tragico evento. È necessario che le popolazioni indigene ricevano il riconoscimento e la giustizia che meritano. È inoltre necessario che si lavori per promuovere la comprensione e la tolleranza tra le diverse culture. Le tappe principali del genocidio degli indiani d'America 1492-1550 La diffusione di malattie europee, come il vagliolo, il morbillo e la peste, decima la popolazione indigena del continente americano. 1600-1900 I colonizzatori europei e i loro discendenti si impossessano delle terre dei nativi americani con la forza, attraverso guerre, massacri e trattati iniqui. 1864 Il massacro di Sand Creek è uno degli episodi più sanguinosi della storia del genocidio degli indiani d'America. 1887 Il Do's Act è una legge federale che mira a assimilare i nativi americani alla cultura e alla società dei bianchi. Il Sene Sencepe Act concede la cittadinanza americana a tutti i nativi americani. 1973 Occupazione di Wounded Knee è un evento importante nella storia della lotta dei nativi americani per i loro diritti. 2009 Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama riconosce il ruolo del governo americano nello sterminio dei nativi americani. Le conseguenze del genocidio degli indiani d'America La perdita di vite umane Si stima che tra il 55 e il 10% della popolazione indigena delle Americhe sia stata sterminata nel corso del genocidio. La perdita di terre I nativi americani sono stati costretti a cedere gran parte delle loro terre ai colonizzatori europei. La perdita di cultura I nativi americani sono stati costretti ad abbandonare le proprie tradizioni e la propria cultura. La povertà e l'emarginazione Le popolazioni indigene sono ancora oggi tra le più povere e meno istruite del paese. Il riconoscimento del genocidio degli indiani d'America Solo negli ultimi decenni si è iniziato a riconoscere il genocidio degli indiani d'America come un evento storico reale e drammatico. Nel 2009, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rilasciato una dichiarazione in cui ha riconosciuto il ruolo del governo americano nello sterminio dei nativi americani. Tuttavia, molto resta ancora da fare per affrontare le conseguenze di questo tragico evento. È necessario che le popolazioni indigene ricevano il riconoscimento. Grazie a tutti.